Buongiorno, ecco l'oroscopo di oggi, giovedì 12 gennaio 2017. Ariete, giornata interlocutoria, c'è molto da migliorare sia dal punto di vista delle relazioni interpersonali che dal punto di vista dei rapporti con le alte gerarchie. Toro, il lavoro continua ad essere in un momento di stasi, cercate di non affrettare le cose per raggiungere in fretta obiettivi non ancora alla vostra portata. Gemelli, non sono rose e fiori, ma farne sempre un dramma non vi aiuterà ad affrontare la questione. Cancro, ci sono ancora molte faccende da sbrigare, è il caso di darsi una mossa e cercare anche l'aiuto di un buon amico. Leone, disastro totale, anche questa volta tutto quello che avevate pianificato finisce per saltare, ma non demordete. Vergine, finalmente un po' di tranquillità e serenità, concedetevi pure una giornata di relax, visto che ci sarà molto da lavorare poi. Bilancia, mostrate un po' di carattere, non vi fidate sempre di quel che vi dice il vostro partner e tirate fuori le unghie. Scorpione, c'è qualcuno che sta facendo il furbo, meglio capire in fretta di chi si tratta e coglierlo con la mano nella marmellata. Sagittario, non tutto può essere risolto da soli, meglio chiedere l'aiuto di un caro amico che sa come uscire da certi pantani. Capricorno, ottimo momento sia al lavoro che in campo sentimentale, potete dormire sonni tranquilli, quel che vi eravate prefissati sta per avverarsi. Acquario, disastro, ancora una volta danni quasi irreparabili, la colpa è vostra, meglio starvene a casa oggi. Pesci, anche per voi non sono i giorni migliori per fare grandi progetti, rimandate più che potete. Grazie a tutti e buona giornata.